Stamane a Potenza l'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 538, le controverse definite nell'ultimo anno, il presidente De Luce lancia l'allarme, in calo le pendenze, ma permangono i problemi legati alle carenze di organico. La maxi operazione della DDA di Potenza che ieri ha portato a dieci arresti dalle carte dell'inchiesta emerge il possibile movente dell'omicidio di Donato abruzzese. Screening mammografico, la regione estende la fascia d'età, saranno interessate le donne lucane fra i 45 e i 74 anni. Contro il minieolico selvaggio continua la mobilitazione del Comitato Cittadino Piani del Mattino e zone limitrofe di Potenza indetta per domenica un'assemblea pubblica. Come ogni venerdì al termine del Tg, tornano le previsioni meteo a cura del nostro esperto Gaetano Brindisi oggi in collegamento telefonico. Ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv, lo avete sentito dai titoli per la giustizia tributaria continua ad esserci scarsa attenzione nonostante possa contribuire in maniera notevole al miglioramento dei conti dello Stato. Questo è il grido d'allarme lanciato stamane dal Presidente della Commissione Tributaria della Basilicata, Antonio De Luce, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Sentiamo tutti i dettagli da Fabrizio Di Vito. Sono 538 le controversie definite nell'ultimo anno dalla Commissione Tributaria regionale della Basilicata. La percentuale di decisioni favorevoli all'ufficio è stata del 45%, favorevoli al contribuente del 41%, mentre il restante 14% è rappresentato dalle decisioni in rito. Sono questi alcuni dei dati illustrati dal Presidente della Commissione Tributaria regionale della Basilicata, Antonio De Luce, durante la tradizionale cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario e tributario che si è svolta in Tribunale a Potenza. Le buone notizie arrivano dal calo delle pendenze. I ricorsi in attesa di definizione sono passati da 3833 a 3402, un dato che per il Presidente De Luce conferma come in Basilicata la giustizia tributaria, nonostante i cronici problemi legati alle carenze di organi con il personale amministrativo, riesca a rispondere con apprezzabile tempestività alla domanda di giustizia del cittadino. Il Presidente De Luce ha lamentato la scarsa attenzione nei confronti della giustizia tributaria, sottolineando che il buon funzionamento della stessa contribuirebbe in maniera notevole al miglioramento dei conti dello Stato e renderebbe più chiaro il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione delle finanze. Dopo la riforma del 1992, ha precisato ancora il Presidente della Commissione Tributaria regionale, non c'è stato alcun intervento del legislatore per rendere effettivo anche per la giustizia tributaria il principio dell'indipendenza e della giurisdizione. Una forte valutazione negativa, infine, è stata espressa anche nei confronti dell'ipotesi al momento accantonata di una completa soppressione delle commissioni tributarie con attribuzione delle relative competenze ai tribunali ordinari. L'ex sindaco di Nova Siri finisce a giudizio della Corte dei Conti per delle anomalie relativa alla corresponsione delle retribuzioni di posizione di risultato. La contestazione del danno erareale ammonterebbe a circa 50 mila euro. Sentiamo Michelangelo Russo. La tegola della giustizia contabile si abbatte sulla gestione amministrativa del comune di Nova Siri, avvenuta nella legislatura precedente, guidata dall'allora sindaco Giuseppe Sant'Arcangelo, a capo di una coalizione di centrodestra nel decennio 2004-2014. Infatti l'ex primo cittadino dovrà comparire il prossimo 13 giugno dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Basilicata insieme al responsabile del settore finanziario, il ragioniere Antonio Darmento. Entrambi sono stati citati in giudizio poiché i magistrati contabili hanno rilevato anomalie circa la corresponsione della retribuzione di posizione di risultato dei responsabili di settore del comune ionico nel periodo 2009-2014. La contestazione del danno erareale nei confronti del comune di Nova Siri ammonta circa 50.000 euro nel minimo e circa 79.000 euro nel massimo da addebitare per il 70% all'ex sindaco Sant'Arcangelo e per il 30% al responsabile del settore finanziario Darmento, attualmente in servizio poiché di ruolo. Sbalzato dallo scooter è morto sul colpo a causa dei traumi riportati. È successo a Sassuolo, in provincia di Modena dove un 46enne originario della provincia di Matera, Nicola Loquercio, è domiciliato proprio a Sassuolo. Ha perso la vita nel sinistro avvenuto intorno alla mezzanotte. Per cause che sono ora al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, l'uomo è stato sbalzato dal mezzo uno scooter di grossa cilindrata mentre stava percorrendo un tratto in curva a ridosso di via Teano inutili soccorsi. Quando il 118 è giunto sul posto, l'uomo era già deceduto. Ed ora torniamo a parlare della maxi operazione della DDA di Potenza che ieri ha portato a 10 arresti, tra cui il potentino Donatolo russo. Dalle carte dell'inchiesta emerge il possibile movente dell'omicidio di Donato abruzzese avvenuto a Potenza il 29 aprile del 2013. Sentiamo. Avevano creato una sofisticata rete illegale legate alle scommesse online e alle slot machines, un business illecito che avrebbe fruttato qualcosa come 593 milioni di euro all'anno, proventi interamente sottratti a qualsiasi tipo di tassazione e successivamente ripuliti attraverso altri canali. A scoprire l'associazione a delinquere transnazionale, i carabinieri di Potenza, al termine di accurate e complicate indagini culminate ieri mattina, con l'esecuzione di 16 delle 19 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale del Capoluogo Lucano, Rosa Maria Verrastro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza. In carcere è finito il potentino Donatolo russo, considerato l'attuale referente del clan martorano Stefanutti, mentre per quanto riguarda gli altri lucani raggiunti da misure cautelare è scattato l'obbligo di dimora per Giuseppe Arceri di Potenza e Giancarlo Bergamotta di Policoro. Agli arresti si è arrivati al termine delle indagini avviate diversi anni fa con l'obiettivo di individuare l'ambito delle attività imprenditoriali legate a Dorino Stefanutti, indagato ma non colpito da una nuova misura cautelare perché già in carcere per l'omicidio di Donato Abruzzese, ucciso il 29 aprile del 2013 davanti alla sua abitazione in Via Parigi a Potenza. Delitto quest'ultimo che per gli inquirenti potrebbe essere strettamente connesso proprio con le attività illecite portate avanti dal gruppo trasnazionale scoperto dagli inquirenti. L'omicidio di Abruzzese Donato, scrive il GIP Verrastro nell'ordinanza, potrebbe trovare la sua motivazione nei contrasti insorti con Stefanutti, proprio in relazione al business delle apparecchiature di gioco. E' dello stesso GIP a ricostruire i presunti contrasti che avrebbero portato all'omicidio, dissidi che avrebbero portato alla rottura dei rapporti commerciali con lo russo, che avrebbe preteso da Abruzzese la riconsegna delle chiavi dei totem. Proprio dopo l'omicidio di Donato Abruzzese si sarebbe aperta una nuova fase, con il gruppo vicino a Stefanutti costretto a riorganizzarsi dopo l'arresto di quest'ultimo. Operazione agevolata dalla presenza di una rete di rapporti a prassi oramai da anni consolidate. Ancora cronaca con le accuse di estorsione consumata e tentata, uso in debito di carta di credito e maltrattamenti. La polizia ha arrestato a Potenza un minorenne di 17 anni. L'attività di indagine ha posto fine ad un vero e proprio clima di terrore all'interno della famiglia del ragazzo causato dalle continue e pressanti richieste di denaro. Oltre che sui genitori il giovane sfogava la propria rabbia anche sugli animali domestici o arrecava danni agli arredi dell'abitazione. Il 17enne era stato arrestato nello scorso mese di novembre per detenzione illecita di droga. Rimesso in libertà è finito nuovamente in carcere. La regione estende la fascia d'età per gli screening mammografici. Saranno interessate le donne lucane fra i 45 e i 74 anni d'età. Si parte dal primo giugno. Sentiamo. Con un investimento complessivo di circa un milione di euro, la Giunta regionale ha deciso di procedere alla riorganizzazione complessiva del sistema di accesso ed offerta delle prestazioni relative alla diagnosi di tumore alla mammella, estendendo il percorso di screening mammografico alle donne dai 45 ai 74 anni di età residenti in Basilicata. A partire dal 1999 lo screening mammografico viene assicurato alle donne nell'età compresa tra i 50 e i 69 anni, che attualmente corrisponde a circa 80.000 donne lucane. L'adesione delle donne è di circa il 74%, considerato che nel 2016 sono stati effettuati circa 30.000 test mammografici e che la popolazione invitata è stata di circa 40.000 donne. L'estensione dello screening alla fascia d'età 45-49 anni, che prevede un test con cadenza annuale, comporterà l'esecuzione di circa 15.800 test annuali. L'estensione dello screening alla fascia d'età 70-74 anni, che prevede un test con cadenza biennale, comporterà l'esecuzione di 4.344 test per anno. Il programma di estensione delle fasce d'età sarà realizzato attraverso due articolazioni, una territoriale garantita dall'ASP e l'altra afferente alla diagnostica per immagini del CROB di Rio Nero. Le attività saranno assicurate a partire dal 1 giugno 2017. Un ambulatorio medico aperto alle esigenze dei migranti sarà inaugurato domani alle 16.30. Il punto medico ubicato nella sede del Cestrim in Via Sinni, a Potenza, sarà aperto nel corso di un'iniziativa pubblica, alla quale parteciperà il presidente dell'associazione Cestrim, Don Marcello Cozzi, i medici coinvolti nel progetto, ed un rappresentante dell'associazione Emergency, che porterà la sua testimonianza. Salam, che significa pace ma anche salute, è il nome arabo dato al progetto e allo studio medico. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Global Service, società cooperativa impegnata principalmente nei campi dell'accoglienza e dell'integrazione per lo sviluppo di un welfare sociale sempre migliore. Immigrati, anziani e minori rappresentano il target di persone a cui si rivolge principalmente Global Service, allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita dignitosa. Per informazioni via della tecnica 24 85 100 potenza 0971-1940-572, info-globalservicesociale.it Segnale a ingiustizie di servizi ed eventi e manderemo in onda i tuoi video nella nuova TG. Contatto diretto con la nuova TV, manda foto e video al nostro numero WhatsApp 346-8353-824. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG contro il mineolico selvaggio continuo alla mobilitazione del Comitato Cittadino Piani del Mattino e zone limitrofe di Potenza. Secondo quanto denuncia il Comitato saranno installate più di 200 paleoliche sulla sola città di Potenza e le istituzioni, nonostante le continue sollecitazioni, non avrebbe posto alcun freno allo scempio. Il Comitato ritiene che il sostegno a tutte le produzioni di energia da fonte rinnovabile debba essere coniugato con un'attenta salvaguardia dei valori ambientali, paesaggistici e della salute umana al fine di sensibilizzare la popolazione. Il Comitato Piani del Mattino ha indetto un'assemblea pubblica che si terrà presso il presidio permanente in via delle mattine a Potenza, domenica 2 aprile alle 16.30. A Ravenna un incubatore di impresa sostenuto da Eni prova a trasformare in realtà idee innovative, un'esperienza di successo che si vorrebbe replicare anche in Basilicata. Sentiamo i dettagli da Daniele Corbo. Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna, Fondazione Eni Enrico Mattei è un'associazione temporanea di tre aziende locali, quattro soggetti per un obiettivo comune, favorire la crescita di start-up innovative, centrate sulle vocazioni del territorio e stimolare le capacità imprenditoriali dei più giovani. Una strada tentata anche nella nostra regione con sviluppo Basilicata, ma senza successo. Un modello che adesso la Fondazione Mattei vorrebbe replicare anche per i Lucani. Collabora è un incubatore che prova a trasformare idee in concrete proposte per il mercato, in attività vere e proprie. Come? Mettendo a disposizione luoghi di lavoro, di condivisione delle esperienze e delle conoscenze e offrendo servizi specialistici, dalla definizione del business plan alle attività di segreteria, dalla formazione alla consulenza. L'ATI si occupa di tutoraggio e affiancamento, la Fondazione Mattei di supervisione e supporto alla comunicazione. 600.000 euro il valore dell'intero progetto, soldi metà pubblici e metà di eni. Il Comune ha concesso l'utilizzo di un edificio industriale. Nei pressi della Darsena in via di riqualificazione, la Regione ha emesso apposito bando. Quattro le idee selezionate sulle 25 pervenute da un comitato scientifico con dentro Fondazione Mattei, Regione e Comune. Fra queste è l'app che quando scatti la foto di un monumento fornisce automaticamente tutte le informazioni al riguardo, comprese quelle su opere situate nei dintorni. La fase di incubazione è iniziata nel maggio 2016, un anno la durata prevista, ma forse si garantirà anche una fase di post-incubazione di qualche mese. Intanto è già aperto il nuovo bando. In Basilicata si può, sì, secondo Cecilia Mezzano, referente di Collabora, ma serve una visione condivisa fra istituzioni, organizzazioni e privati. Ed ora andiamo a Chiaromonte, dove stamane è stato riaperto all'utenza il punto IMS. C'era per noi Cristina Libonati. Dopo la chiusura nel 2015 riapre il punto IMS a Chiaromonte, ubicato negli uffici del Comune, un servizio importante per un territorio vastissimo che comprende 16 comuni che contano circa 30.000 residenti. Per problemi burocratici l'IMS non garantiva più il suo servizio da quasi un anno qui all'interno del Comune di Chiaromonte. Oggi invece, grazie sicuramente alla collaborazione tra enti e quindi tra il Comune di Chiaromonte e lo stesso IMS si arriva alla riapertura di questo servizio nell'ottica sicuramente di offrire non soltanto al Comune di Chiaromonte ma a tutti i cittadini dell'area la vicinanza con gli enti e quindi un punto di civiltà in più sul nostro territorio. Quindi non possiamo che sicuramente manifestare piena contentezza, sicuramente soddisfazione per questo ulteriore traguardo. Diversi servizi che saranno erogati presso il punto IMS per venire incontro alle esigenze dei cittadini delle aree interne del Pollino, Sarmento, Senisese e Serrapotamo, costretti a recarsi alla sede provinciale IMSS di Potenza o all'Agenzia di Lago Negro. Siamo contenti perché comunque andiamo incontro all'utenza, ci avviciniamo insomma all'utenza per le distanze che ci sono qua in Basilicata e poi siamo contenti anche di avere una sinergia con il Comune, quindi si lavora insieme, siamo ospiti del Comune di Chiaromonte e nello stesso tempo prestiamo un servizio per ora e previsto in un giorno al mese e poi ci proponiamo di dilatare, non escluso che possiamo renderlo sistematicamente stabile. Vediamo anche l'andamento, la frequenza dell'utenza e siamo pronti anche a valutare dei giorni più significativi per poter rispondere all'utenza. Un'ulteriore importante iniziativa che ha visto la luce, voluta fortemente dall'IMS e dall'amministrazione comunale, è l'area allattamento. Un'altra grande soddisfazione per Chiaromonte, unico Comune Lucano, ad avere questo nuovo servizio. Oggi vedremo anche l'inaugurazione dell'area allattamento, un altro servizio che si aggiunge sicuramente ai servizi ordinari garantiti da IMSS per le donne che usufruiscono sia dei servizi dell'IMS ma anche che arrivano all'interno del Comune e che appunto si accingono e devono accingersi ad allattare i loro bambini. Quindi sicuramente è un servizio in più che viene offerto. Restiamo in tema perché tre baby pit stop saranno allestiti nelle tre principali sedi del Comune di Potenza. Nei locali sarà possibile allattare i bambini e cambiare i pannolini, l'utilizzo gratuito sarà riservato a tutte le mamme. I baby pit stop saranno allestiti nelle sedi del Palazzo di Città in Piazza Matteotti, al Mobility Center di Via Nazario Sauro e nella sede comunale di Parco Sant'Antonio La Macchia. 50 docenti lucani a confronto a Bella per tracciare un bilancio sulla rete delle scuole impegnate per la promozione delle biblioteche, della lettura e della competenza informativa. Sentiamo Michelangelo Russo. Un racconto collettivo per mezzo di parole, musica e animazioni varie. Tempo di bilanci per la rete lucana per la promozione delle biblioteche, della lettura e della competenza informativa rilanciata lo scorso anno ma ormai giunta al decimo anno di attività. Una rete numerosa che raggruppa gli istituti comprensivi e di istruzione superiore di ben 16 comuni. Gli istituti comprensivi di Bella, Rapolla, Sanfele, Ruvo del Monte e Rapone, Pignola e Abriola, Rio Nero, Barile, Ginestre e Ripacandida, gli istituti di istruzione superiore di Muro Lucano, Picello e Pesco Pagano, Lago Negro e infine il Nitti di Potenza. All'interno della bibliomediateca dell'istituto comprensivo di Bella, docenti e dirigenti scolastici hanno condiviso le loro esperienze maturate nella rete, non proprio un convegno visti i tempi ristretti e le attività realizzate. Spesso piacevolmente interrotte dalle incursioni per mezzo di canzoni filastroccate e intermezzi musicali a sfondo multiculturale. Numerosi docenti intervenuti, prima del gran finale affidato al docente Livio Sossi dell'Università di Udine, ha inaugurato i lavori la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Bella, Carmela Gallipoli, che ha annunciato la prossima conversione della bibliomediateca in un atelier creativo, per combinare manuale digitale e didattica formale e informale. Poi i numeri che certificano il lavoro di squadra messo in piedi con i docenti referenti delle varie scuole. Ad illustrarli il coordinatore della rete Mario Priore, in dieci anni sono stati ospitati 80 autori, trascrittori e illustratori per ragazzi. Oltre 35 mila invece nel complesso i ragazzi coinvolti nelle attività, più di 8 mila i testi acquistati. E da parte mia è tutto, ora la linea Donato Valvano per le notizie sportive. Grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento di giornata. Ben ritrovati dagli studi della nuova TV con il consueto appuntamento con il nostro notiziario sportivo. In primo piano il calcio, partiamo dalla Lega Pro. Dopo la finale di andata vittoriosa contro il Venezia, a Matera è ritornato l'entusiasmo. A Melfi, dopo i dieci punti nelle ultime quattro partite, c'è la convinzione di poter fare il colpo grosso anche domani sul campo della Regina. Vediamo il servizio. È ritornato l'entusiasmo a Matera dopo la vittoria di misura contro il Venezia nella finale di andata di Coppa Italia. Il gol di Negro permette ai biancazzurri di guardare con fiducia i prossimi impegni che prima della finale di ritorno al Penso il prossimo 26 aprile si chiamano Fondi, Fidelisandria e Virtus Francavilla. Prima dello scontro del 21 settembre contro il Lecce. Per l'undici di mister Auteri sarà un ciclo di partite molto importante per certificare la guarigione definitiva di una squadra che ha perso sei gare nelle ultime otto di campionato. Contro il Venezia in Coppa, così come domenica sera in campionato contro il Messina, si è rivisto il miglior Matera. Aspetto non di poco conto per chiudere in crescendo questo finale di stagione. Contro il Fondi sarà a disposizione Armellino dopo la squalifica. In dubbio Scognamillo per un problema all'anca, mentre ancora Out Giannini che non sembra recuperabile. A di là delle defezioni l'obiettivo è quello di tornare dal viaggio in terra pontina con i tre punti. Il Melfi si prepara alla delicata sfida del granillo di domani contro la Regina. Per Diana e i suoi uomini si tratta di una delle tante finali che le attendono da qui alla fine della stagione. Contro gli Amaranto il Melfi è chiamato a fare l'impresa, come è già successo a Catania qualche settimana fa. La quota salvezza non è lontana, solo quattro punti, ma per raggiungerla i federiciani sono costretti a non sbagliare mai. I dieci punti nelle ultime quattro partite di 390 minuti di imbattibilità regalano fiducia. Contro la Regina, mister Diana recupera Foggia dopo la squalifica, mentre resta in dubbio De Angelis. Passiamo alla Serie D, alla vigilia di una nuova giornata di campionato. Vediamo come si stanno preparando le nostre quattro formazioni. Il servizio. Mister Arleo sta preparando la trasferta del Picerno sul campo del Trastevere. Partita che verrà disputata a porte chiuse per le intemperanze di tifosi romani dopo la sconfitta di mercoledì contro il Bisceglie. Il tecnico potentino dovrà valutare le condizioni di Ciran, alle prese con noie muscolari, esposito e lo laico. Se per il primo il recupero risulta più lento del previsto, sono migliori invece le sensazioni per quel che riguarda esposito, che seppur stia procedendo con il lavoro differenziato, non ha particolari problemi alla caviglia e potrebbe essere convocato anche se potrebbe partire dalla panchina. Buone sensazioni anche per quanto riguarda lo laico, uscito anzitempo contro il Sansevero per un risentimento agli adduttori. Gli esami hanno escluso qualsiasi tipo di complicanza, evidenziando solamente un piccolo risentimento muscolare che tuttavia non impedirà al terzino di essere a disposizione. Il Potenza si avvicina alla sfida di domenica al Viviane contro il lanciatissimo Bisceglie, obbligato a centrare i tre punti per alimentare la ricorsa al Trastevere. La richiesta di posticipare alle 16 l'inizio della gara non è stata accettata. Si conferma che la partita avrà inizio alle 15. Si è conclusa positivamente la querelle inerente all'attivazione della videosorveglianza del Viviane, imposta dal questore Anzalone. Dopo l'intervento del Comune, che essendo proprietario dell'impianto, è chiamata a farsi carico dei lavori di manutenzione. L'aggiornamento dell'impianto di videosorveglianza è stato completato ed è già operativo. Mister Biagioni potrà contare su tutta la rosa, ad eccezione di Todino e Lucchese, entrambi infortunati. Concentrazione e obiettivo ben in vista. Saranno questi gli elementi fondamentali per l'avulto rio nero in vista della dura trasferta contro il Manfredonia. La sfida che ha tanto l'area di uno spareggio salvezza. In caso di vittoria, infatti, la squadra di Sosa potrebbe compiere un vero e proprio balzo in avanti, tale da permettere di affrontare i successivi impegni con maggiore tranquillità. L'alternanza di 4-3-3, 4-2-3-1 rappresenta uno dei punti di forza dei Volturini, che freschi di promozione del modulo utilizzato nella vittoria contro il Trastevere, dovrebbero riproporlo anche in casa dei pugliesi. A fare da contorno la ritrovata tranquillità societaria, ulteriore motivo per fare bene in campo. Contro l'Agropoli, il Francavilla va alla ricerca dei tre punti che i sedici non c'entrano da diverse settimane. I Rosso-Blu non vincono dalla sfida del 5 febbraio contro il Potenza e hanno raccolto solamente tre punti nelle ultime sei gare. Contro i Cilentani, il mister Lasi ci dovrà fare a meno di mattinata alle prese con dei fastidi muscolari, così come diversi dubbi ci sono per Marziale e Mannone, ancora non al meglio. ha 8 per la squalifica anche Cassata, mentre dovrebbe essere a disposizione De Santis, che ha smaltito i problemi al ginocchio. Mister Lasi ci dovrebbe puntare ancora sul 4-3-3. I tre punti chiamano, il Francavilla vuole metterli in cascina per mettersi a riparo da brutte sorprese. Parliamo ora di calcio regionale. Il comitato regionale della Basilicata della FIGC ha fissato per il 25 aprile prossimo la data della finale di Coppa Italia di promozione Ferrandina Rotonda. finale che verrà disputata al Coviello di Vigiano alle ore 17.30. Per questo motivo inoltre le due formazioni anticiperanno le loro sfide di campionato rispettivamente contro Anzi e Davigliano a sabato 22 aprile alle ore 16.30. Ed era questa l'ultima notizia della nuova sport. Grazie per averci seguito e vi lascio ai programmi della rete. Arrivederci. Buongiorno a tutti per le previsioni del meteo, a tutti i nostri telespettatori della nuova Basilicata. e c'è da dire che la primavera sta facendo sul serio. Ormai le temperature da tanti giorni sono costantemente sopra le medie. Abbiamo avuto giusto un piccolo break lunedì, ma nulla di più. Insomma è tornato un po' di neve sui monti, ma ci sta. A marzo è una situazione assolutamente normale. Quello che non è normale è la mancanza di pioggia significativa negli ultimi due mesi. Ormai febbraio e marzo davvero sono stati molto siccitosi dal punto di vista delle precipitazioni. E di questo hanno risentito anche le temperature che, grazie all'alta pressione quasi sempre presente sul Mediterraneo centrale, sull'Italia, ha fatto sì che le temperature fossero decisamente superiori al normale, fino a 7-8, alcune zone della Basilicata anche 10 gradi in più della media. D'altronde la stagione è quasi un mese avanti, anche dal punto di vista della natura, della fioritura delle piante, sperando appunto che non ci siano poi nel futuro delle gelate tardive che purtroppo sono sempre possibili. Per il momento vediamo l'immagine di Stratella che ci mostra l'alta pressione appunto presente al centro del teleschermo, invece sulla Sintra già si notano le perturbazioni atlantiche che cominciano a scalfire questa alta pressione, altra nuvolosità, altre perturbazioni a nord, su nord Europa dove l'inverno prosegue senza sosta, lì ci sono frequenti nevicate. E invece da noi, come dicevo, un'alta pressione però in progressivo, in graduale deterioramento a partire da domani. Vediamo anche l'ingrandimento del Stratella che ci mostra praticamente l'Italia a sgombra da nuvi, un po' di nuvolosità sul Tirreno, un po' di nuvolosità sulla Puglia meridionale, per il resto una dorsale appenninica senza neve, vedete solamente un po' di macchioline bianche sull'Abruzzo, c'è ancora un po' di neve presente, anche sulle nostre montagne, ma si tratta davvero di poca roba, mentre l'Arco Alfig invece è decisamente più nevato. Vedete la perturbazione che avanza da ovest, che farà peggiorare il tempo appunto nel fine settimana, soprattutto domenica. Andiamo con ordine, vediamo la previsione riferita alla seconda parte della giornata di oggi, nessuna novità significativa, abbiamo visto il cielo sereno su tutta la regione, un po' quelle nubi là sul Tirreno potrebbero leggermente coprire il cielo sulla costa di Maratea, sulle zone della colonna di Grese più occidentali, ma nulla di più, per il resto ci sarà un tempo abbastanza buono, insomma nulla di significativi, un po' di nubi insignificanti appunto. Vediamo il sabato, la giornata di domani ci sono poche variazioni, però la pressione comincia a flettere, i venti soprattutto cominciano a ruotare a sud e questo denota un cambiamento del tempo. Quindi vedete sulla parte occidentale della regione la nuvolosità andrà via via aumentando, in serata sarà più cospicua questa nuvolosità sulla parte occidentale, sulla parte tirrenica, dove in nottata ci potrebbero essere le prime piogge, invece in attesa sicuramente la parte orientale del materano dove creerà il sole per tutta la giornata. Per quanto riguarda le temperature, come dicevo prima si mantengano decisamente calde, sono valori di maggio tranquillamente, sia su potenza che su matera, vedete le minime 7 a potenza e 10 a matera, le massime 19 a potenza e 21 a matera, sono valori di 8-9 gradi in più della media tranquillamente. I venti cominciano a ruotare a sud-est, rinforzo sul lato ionico e da sud sul resto della regione anche qui rinforzo nel corso della serata. Per quanto riguarda la domenica, la domenica c'è un peggioramento, la pressione scende sul meridione, soprattutto si formerà una depressione tra Sicilia e Calabria e questo porterà un forte peggioramento su queste zone, ma sicuramente anche sulla Basilicata meridionale avremo piogge significative, come dicevo dopo tanta siccità un po' di pioggia sicuramente fa bene in questo periodo, quindi piogge su tutta la fascia tirrenica, quella è la zona più interessata dalle precipitazioni, ma anche sul lato orientale del materano, lì la parte ionica e confini con la Calabria potrebbe ricevere degli apporti di precipitazione piuttosto alti. Sul resto della regione piogge intermittenti, in alcuni casi anche un po' moderate, ma non significativamente forti. In serata avremo un ulteriore peggioramento poi su tutta la regione perché la pressione tende a scendere, soprattutto sulla parte meridionale della Basilicata, dove potrebbe nevicare anche sul Pollino a quote oscillanti tra i 1600-1800 metri, a seconda dell'intensità della precipitazione. Naturalmente scendono le temperature, vediamo il quadro grafico con le temperature previste domenica e le minime con i venti da sud si mantengono elevate, forse aumentano anche un altro grado rispetto al sabato, 8 a minima potenza, 11 a Matera, invece le massime scendono di diversi gradi, proprio perché c'è una nuvolosità presente con le precipitazioni, ma comunque rimangono superiori alle medie del periodo, 13 la massima potenza e 16 la massima su Matera. I venti sono ovunque moderati con i locali rinforzi sull'Ionio che tenderà a diventare mosso, anche molto mosso nel corso di domenica, invece il sirreno da poco mosso a mosso, insomma anche i mari risentono della ventilazione in aumento, una ventilazione che rimarrà da sud-est anche per la giornata di domenica. Questa depressione poi nei prossimi giorni tenderà lentamente ad allontanarsi dall'Italia, ma lunedì ancora ci sarà un brutto tempo, come dicevo, sulle estreme regioni meridionali, compresa la nostra regione, quindi aspettiamoci delle precipitazioni sparse e un'ulteriore diminuzione delle temperature che a questo punto si riporteranno nelle medie stagionali, quindi lunedì sarà spaggio per qualche nevicata in montagna a quote anche un po' più basse rispetto a quelle di domenica, quindi in alcuni casi anche sui 1.400-1.500 mesi. Poi è probabile che tra giovedì e venerdì arrivi dell'aria più fredda rispetto a quella preesistente e quindi da giovedì le temperature potrebbero scendere anche sotto le medie, questa è una situazione naturalmente da verificare nei prossimi giorni, per il momento facendo un riassunto veloce, sabato una giornata ancora in attesa con bel tempo su tutta la regione, domenica una situazione che vedrà un peggioramento generalizzato con piogge più intense e probabili sulla parte centro-meridionale della Basilicata. È tutto per oggi, a risentirci la prossima settimana, buon weekend ai nostri telespettatori della Nuova TV. Grazie per la visione!